Eccoci qui come state ben ritrovati, li invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like e a iscrivervi da questa parte, attivate anche la campanella. Allora, Milan che sul mercato di gennaio vuole essere protagonista, deve essere protagonista anche per necessità, vuole mettere a serio diversi colpi, sicuramente uno in difesa, forse un terzino, al momento no il centrocampista, al momento anche se iniziano a esserci un po' di rumors, ma dalla società filtra anche la volontà di intervenire sul mercato in attacco. A questo proposito, attenzione alla candidatura di Seru Ghirassi, che in questo momento è quella più calda, siamo a terza settimana di dicembre, può cambiare sicuramente ancora molto, potrebbe anche non arrivare l'attaccante se non si concretizzano certe situazioni. Ghirassi ha rifiutato di cancellare la clausola con lo Stoccarda, quindi 17 milioni prezzo a gennaio, senza dover trattare neanche con il club tedesco. Lui ha 27 anni, va però a fare la Coppa d'Africa, particolare da non sottovalutare, è vero che è un mese, poi è febbraio, marzo, aprile, maggio. 1-87, quest'anno ha segnato 16 gol in 13 partite e ha fatto anche un assist, numeri mostruosi, una rete quest'anno ogni 63 minuti, ogni ora di gioco, davvero pazzesco. Ebbene, secondo le informazioni di nostro possesso, il Milan lo ha seguito più volte, anche personalmente con Moncada, e sta provando a portare avanti questa trattativa con l'entourage del giocatore, che però ha anche altre offerte. Altri interessamenti, uno del Manchester United, che però uscito dall'Europa potrebbe avere o meno necessità, e uno, il secondo, dal Borussia Dortmund, che invece va avanti in Champions League. Lo sapete, insomma, il Milan non c'è andato, è andato avanti il Borussia. Quindi, attenzione, sono settimane decisive, crescono le quotazioni di Ghirassi, che in questo momento sembra essere in pole position per l'attacco del Milan. Risco effetto Piontech, prendere comunque, evitare di spendere 17, perché comunque a regime può essere una riserva, scatenatevi, leggerò i vostri commenti, e iscrivetevi qui. Un saluto.